Un fulmine a Celsereno si è abbattuto sugli stabilimenti Malo di Borgonovo, la maglieria di qualità che da tanti anni produce nel paese piacentino. La direzione centrale ha deciso una riorganizzazione che di fatto penalizza i 58 dipendenti degli stabilimenti di Borgonovo perché sembra possibile, sembra quasi certa una chiusura. Questa mattina i lavoratori hanno fatto sciopero. Qual è il clima e quali sono i sentimenti che vivete in queste ore? Insomma siamo molto tesi perché dopo tanti anni di giovani giovani qua non ce ne sono più. Quindi di futuro non ne abbiamo. Siamo molto preoccupati. Come vi spiegate questa decisione è arrivata totalmente inaspettata? Totalmente inaspettata perché siamo stati comperati due anni fa quindi era una cosa che sembrava che andasse per il meglio invece ci hanno trovati senza niente. Tra l'altro gli stabilimenti hanno sempre prodotto, non hanno mai dato perdite e quindi hanno sempre prodotto prodotti di qualità. Sono un fiore all'occhiello del gruppo. Certo, poi qua c'è molta gente con tanta esperienza perché giovani, tutta gente che sono più di 20 anni che sono qua dentro quindi è anche una risorsa che va persa perché oramai di stabilimenti di tessili non ce ne sono più. Visto che la crisi del tessile piacentino dura da tanti anni sarete anche preoccupati per una possibile ricollocazione? Sarà molto difficile perché come dicevo qua di 20 anni non ce ne sono più quindi tutta gente quasi sopra i 40 anni e qua di posti di lavoro non ce ne sono. Quindi siamo tutti per la strada. Andare in pensione siamo giovani e trovare un altro lavoro siamo vecchi. Sulla porta avete messo un cartello funebre, fortunatamente per il momento non c'è ancora la data di morte, significa che sperate ancora che si possa recuperare la situazione? Sì, speriamo anche perché di scritto non è ancora arrivata la comunicazione scritta ufficiale dell'azienda ai sindacati per cui noi comunque ci siamo movimentati, abbiamo fatto questa giornata di sciopero come segno di protesta e per cui adesso poi aspetteremo una risposta dall'azienda a questo punto. Domani andranno a Firenze il sindaco, va ad un incontro con la proprietà per cui si vede al momento di cercare di portare a casa qualcosa. Ecco, quale può essere la soluzione? È una soluzione un po' difficile dire quale potrebbe essere la soluzione, perché comunque questa azienda ha un po' per la crisi, un po' perché comunque le perdite, ce ne sono state le perdite monetarie, ecco. Il dubbio nostro è che comunque l'azienda si indirizzi più a un commerciale che mantenere la produzione internamente.